Le iniziative della Settimana della Cultura 2012 a Pordenone hanno visto il culmine nella giornata di sabato 21 aprile, con tre importanti appuntamenti all'interno dei tre principali spazi espositivi della città. Alle ore 11 nel Museo Archaeologico del Friuli Occidentale, al Castello di Torre, è stata aperta una nuova sala dedicata agli intonaci affrescati della Villa Romana. I visitatori del museo potranno dunque ammirare da oggi la ricostruzione delle decorazioni parietali di una delle più lussuose residenze dell'Italia settentrionale d'età agustea. Primo appuntamento della Settimana della Cultura con l'inaugurazione della stanza affrescata qui a Torre, al Museo Archaeologico, quindi mi sembra che sia una settimana di festa dove i nostri musei possono dialogare fra di loro presentando con grande orgoglio il cittadino qualche avvenimento che onora questa settimana e che la rende decisamente importante non solo per la cittadinanza ma per tutto il territorio. Alle 16 al Museo Civico d'Arte di Palazzo Richieri è stato presentato il pagliotto Discesa dello Spirito Santo, una tempera su tela dipinta nella metà del XIV secolo attribuita a Girolamo del Zocco, donata recentemente al museo dalla signora Felicità Lotti. Si tratta di un'opera che era ricoverata in colazione privata fin dal 1777. Per molti anni era copiata alla pala della misericordia del Pordenone. Alle 18 a Parco, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone, è stata presentata un'anteprima di Contemporanea Mente, progetto dedicato alla promozione dell'arte contemporanea e dalla valorizzazione degli artisti attivi nella nostra regione. La settimana della cultura Pordenone ha avuto un sabato come momento conclusivo, ma che in realtà vuole essere poi l'inizio di tutte le attività che andremo a fare per il resto dell'anno e l'anno a venire. Quindi l'ultimo momento di una settimana importante, di una giornata importante, ma in realtà è l'inizio di tante cose, dello svolgimento di tante idee che vedrete nei prossimi mesi. Grazie. Grazie.